Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo mio nuovissimo video di minecraft Oggi signori siamo qui in un brevissimo video di empero Perché signori le corone stanno tornando Tutte le corone Oggi in live abbiamo visto che è tornata la maledetta Ma a quanto pare sono tornate anche la buona Quella di ghiaccio E la unica non si sa cosa sta facendo Veramente Qui sotto c'è la unica come vedete Piazzata E sotto c'è il void totale E Cioè domani in teoria c'è un evento Che io o registrerò o farò in live signori Verso le 12 più o meno Probabilmente Cioè hanno detto così le corone E niente Verrà scelto chi sarà il re bonus probabilmente Perché stasera tipo Aspetta voi a casa Esatto provate a ipotizzare Per Pardo Junior Guardate il Pardo Junior come vuole mi piace Oppure per Indaco Guardate Indaco Quanto è bello Lui vuole mi piace Soprattutto vuole che ipotizzate nei commenti Chi secondo voi sarà il re buono E chi il maledetto A quanto pare sarà così appunto La diciamo elezione delle corone E niente signori E forse si era maledetto E non so perché Forse mi ha Sono il prescelto Ma non ho più la corona alimentare Cioè mi è scomparso prima Per tipo due ore Ce l'avevo Ce l'avevo E mi diceva Sei il prescelto Sei il prescelto E dopo un po' mi ha scritto Tu non sei il Puntini puntini Mi è scomparsa E quindi signori niente Quindi domani vedremo E niente Quindi questo era solo un video Per le informazioni Aspettate Domani mattina dovrebbe far qualcosa A questo cubo Perché è ancora qui così E niente quindi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Commentate e condividete Iscrivetevi al canale Se siete ancora fatto Attivate le campioni di notifiche Mi raccomando ipotizzate nei commenti Per i nuovi Le appunto Non so Noi non stiamo facendo nulla signori Stanno decidendo tutte le corone E niente Ci vediamo al prossimo video Qui da parte da Andrea è tutto Bella Bella Grazie a tutti